Mi chiamo Marco Martini, lavoro nell'unità Metering MassMarket e mi occupo del progetto Nimbus come responsabile tecnico. Lavoro in Italgas da 11 anni, ho lavorato in vari ambiti della direzione misura e da circa 4 anni in ambito metering ho iniziato a lavorare proprio in concomitanza dell'avvio del progetto del nuovo Smart Meter Ritalgas Nimbus. Significa gestire temi tecnicamente impegnativi e complessi ma anche avvincenti che impattano tutta l'azienda, dal provvigionamento dei contatori e lo smestamento, all'operatività dei tecnici di operare sul campo, alla qualità della telelettura, della telegestione e all'innovazione tecnologica degli Smart Meter. La più grande è quella di condurre il parco contatori Italgas attualmente molto variegato verso il futuro. Ovviamente c'è la digitalizzazione come Faro e ovviamente facendo leva sull'innovazione tecnologica cercando di aumentare e alzare il livello di servizio con un occhio al futuro delle reti, alla sicurezza e alla sostenibilità. Riuscire a realizzare uno Smart Meter che sia in grado di semplificare i processi operativi, che riduca gli interventi sul campo, che si dimostri più affidabile relativamente alla telelettura e alla telegestione e che sia sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico.